Good morning Milano, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state, come va? Oggi è il 9 di aprile, è un martedì, pronti per affrontarmi questo martedì, dai la settimana è appena iniziata quindi godiamocela, il caldo già si fa sentire questa mattina, devo dire che insomma noi 16 gradi da questo punto, insomma 16 gradi alle 7-10 del mattino non è male e infatti anche la mia voce si fa risentire, no? Perché insomma è così, quando arriva il caldo poi uno non se lo aspetta, comincia a spogliarsi e va, e va così. Come va, come va, come va, ditecelo 3317853555, il nostro numero di Whatsapp già pronto qui davanti a me, già pronto a leggere i vostri messaggi. Oggi, come ho detto, è il 9 di aprile, pensate che Ambrogio mi ha già scritto un Whatsapp per ricordarmi una cosa molto importante che però dico, Ambrogio me l'ho segnata, la sapevo anch'io, me l'ho segnata le cose da dire proprio in apertura di programma e avevo già anche gestito con l'ufficio programmazione questa cosa. Perché? Perché oggi il 9 aprile compie gli anni Patti Bravo. Ebbene sì, ebbene sì, Patti Bravo, 76 anni, nel 1948 è nata, quindi tanti auguri a Patti Bravo e grazie ad Ambrogio che mi dice tantissimi auguri di buon compleanno a Patti Bravo che oggi, 9 aprile, compie gli anni. Pensiero stupendo, dice lui. Io invece, se cosa ti rispondo, caro il mio Ambrogio, ti dico che quella di fare tutte le mattine la radio dalle 7 del mattino è una pazza idea, è per voi Patti Bravo. Patti Bravo con Pazza Idea, quella pazza idea che tutte le mattine mi fa stare qui con voi, ma è quanto di più bello ci può essere, anzi grazie come sempre di farmi entrare nella vostra routine mattutina di essere con voi, e allora andiamo a leggere un po' di Whatsapp che arrivano al 3317853555. Allora, buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, benvenuti in questo martedì di marzo che ci porterà nuovamente la pioggia, così dice Alberto, perché si potrebbe arrivare alla pioggia. Allora, non è così chiaro, nel senso che come al solito le previsioni non è che possono essere così nette, 35% di possibilità di pioggia al momento dopo le ore 15, la cosa però che come al solito è fastidiosa è che arriverà dopo aver toccato picchi di 19 gradi durante la giornata e quindi una bella umidità, una bella caldazza umida con la pioggia, quello che peggio non si può avere. Pioggia che invece dovrebbe attestarsi sulla giornata di domani, perché invece da sera dovrebbe cominciare ad arrivare la pioggia e quindi va bene, sì, effettivamente Alberto ha scritto, l'ho letto anch'io senza problemi, adesso Alberto si corregge nel suo messaggio, l'ho letto in questo martedì di marzo, invece è martedì di aprile effettivamente. Hai ragione Alberto, me lo scrivesse sul Whatsapp. Stesso Alberto che ringrazia anche per pazza idea, ascoltando le parole di questa canzone, sembra di vivere un film, è vero, è vero, è vero. Ma infatti io lo dico, io vivo un film tutte le mattine che sono qui con voi, quindi è il mio grande film della mia vita, grazie anzi. E ci ricorda anche di un possibile, o meglio, sicuro, sciopero dei mezzi in arrivo giovedì, ma che avrà delle diversità, nel senso che sciopero a metà a Milano. Leggiamo da Milano Today, sciopero a metà, a metà a Milano, quindi metà 50-50. ATM, Trenord, chi si ferma e chi no. Per giovedì confermata l'agitazione dei ferrovieri, ma i lavoratori ATM non potranno scioperare, quindi niente sciopero per ATM. Quindi a Milano sarà Monca, dice Milano Today, l'agitazione di giovedì 11 aprile, giorno scelto dai sindacati CGL e Will, per uno sciopero generale nazionale proclamato per chiedere più sicurezza sul lavoro e un fisco più equo. Nel capoluogo Meneghino, in tutta Lombardia, avevano aderito alla chiamata delle sigle sindacali anche i dipendenti ATM e poi quelli di Trenord. Ma niente, perché lunedì però l'intervento del prefetto Claudio Sgaraglia ha ridisegnato la situazione. Quindi i dipendenti ATM, che dovevano fermarsi dalle 20 fino a mezzanotte, sono infatti stati precettati per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza. perché per quel giorno sono previsti il G7 dei trasporti, con la presenza in città di ministri dei trasporti delle sette grandi stati del mondo, delle grandi nazioni del mondo. E quindi poi ci saranno anche i quarti di finale tra Milan e Roma di Europa League, 75.000 tifosi attesi al Meazza e quindi niente sciopero per ATM. E quindi così, niente, si fa quindi lo sciopero solo a metà, solo Trenord farà sciopero nel giorno dell'11 di aprile e invece ATM niente. Quindi sarà comunque una giornata delirante perché ci saranno il G7 dei trasporti, quindi ministri che vanno a destra e a sinistra nella città. L'Europa League con Milan e Roma la sera a San Siro con 75.000 tifosi attesi, quindi meno male che lo sciopero non c'è. Anche se, continuo a ripetere, forse trovare una modalità per far scioperare giustamente chi ne ha diritto e vuole anzi portare le sue istanze, forse avrebbe un senso trovare una soluzione nel 2024 piuttosto che sempre questa precettazione. Willy Peiote, mai dire mai, la locura. 7.25 minuti, Crystal Radio, arrivano ancora altri Whatsapp, anche i saluti per chi sappiamo che ci sta ascoltando e quindi tra ascoltatori ci si manda, siamo come il centralino, no? Pronto, questa radio centralino, con chi deve parlare? Ebbene sì, perché Alberto ci manda un Whatsapp con un saluto all'amico Ezio, capito? Quindi usa la radio per... mi piace che non vi mandate gli SMS o i Whatsapp tra di voi ma usate noi altri, è bellissima come cosa. Siamo i vostri postini dei buongiorno e delle mattinate, quindi un saluto all'amico Ezio in macchina da poco in direzione Francia, oella là, bon voyage, bon voyage, quindi da oggi non è più Ezio ma Ezio, capito? Quindi attenzione Ezio che appena superi il confine, ma anzi già in Val d'Aosta secondo me potreste diventare Ezio, capito? Quindi buon viaggio a Ezio che è in macchina che appunto sta andando verso la France, Francia che quest'anno all'Eurovision, così, non c'entra niente ma sapete che io parlo sempre di Eurovision, non dovrebbe darci troppo filo da torce, però non lo so. Di incontro invece date un'occhiata alla canzone del Lussemburgo, ascoltatevela, perché praticamente, in Lussemburgo diranno la stessa cosa di Angelina Mango, perché si assomigliano un po' le due canzoni, cioè nel senso non sono per niente uguali, ma richiamano molto quello stile, cioè entrambe sono cantate da una ragazza giovane che balla, che fa i suoi vocalizzi, ma fa anche una parte un po' più, diciamo, rappata o comunque sincopata, c'è la coreografia, c'è la gioventù che avanza e ci sono i drop, ci sono le pause nella canzone, qua in Lussemburgo c'è una pausa bellissima che quando semmai la mandaremo in radio ci farà saltare tutti i sistemi ogni volta, però insomma ricordano un po' quel mood lì, quindi chissà, attualmente la canzone di Angelina Mango, La Noia, è la sesta canzone più cliccata, diciamo, sul canale YouTube dell'Eurovision, quindi è nella top 10 delle canzoni più viste sul canale Eurovision di YouTube, quindi potrebbe essere niente, ogni volta queste classifiche non contano assolutamente nulla. La prima è una canzone, se non mi ricordo male, quella della Svezia, no non è Svezia, Europapà, adesso poi andiamo a vedere di chi è, non mi ricordo la nazione, però è una canzone stranissima, olandese, olandese di Just Clean, si chiama Europapà, così che fa Europapà, Europapà, tutto il tempo così, però è simpatica, è divertente, è molto Eurovision, perché vi dico questo? Perché manca praticamente un mese all'Eurovision e sapete quanto per me è importante, l'11 maggio finale dell'Eurovision in quella della Svezia, quindi non saremo lì a vederlo, però sicuramente ci collegheremo, vedremo, capiremo un po' quello che succederà, l'Eurovision a Malmo, appunto in Svezia, dal 7 maggio all'11 maggio, l'11 maggio, grande finale, tutti ovviamente facciamo il tifo per Angelina Mango, tante le canzoni interessanti, devo dire, canzone molto interessante anche l'Albania propone, l'Armenia, ho visto anche l'Inghilterra, l'Inghilterra ha un bel prezzo quest'anno, la Gran Bretagna ha un gran bel prezzo quest'anno, chissà se mai riusciranno a fare un po' più di punti rispetto agli altri anni, dove sempre sono rimasti un po' indisparte, tranne la penultima edizione dove appunto arrivarono secondi dietro l'Ucraina e quindi poi venne fatto l'Eurovision Song Contest a Liverpool, quindi insomma, bocca al lupo agli inglesi. Pino Daniele con Quando alle 7.37 minuti, bentornati qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano, dopo la nostra piccola pausa della mezz'ora siamo pronti ancora per farvi compagnia, vi ricordo fino alle 9 qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, DAB Plus in tutta Lombardia e ovviamente anche l'applicazione per iOS e Android, oltre al famoso sito internet crystalradio.it ma voglio ricordarvi anche il nostro sito goodmorning.milano.it, il punto di partenza per riascoltare, rivedere, risapere tutto quello che volete o che vi siete persi, indaffarati nella vostra quotidianità, ci sta che insomma ci sono dei momenti che vi perdete, se vi perdete qualcosa è tutto lì, goodmorning.milano.it, c'è la versione audio e anche la versione video, c'è il podcast e il videopodcast, ci sono tutti gli ospiti che vengono qui a incontrarci e tutte le nostre chiacchierate mattutine con le notizie e con tutti appunto gli argomenti che trattiamo ogni mattina. Argomento che per esempio troviamo in questo momento su Repubblica Milano, perché parliamo di piste ciclabili. Repubblica Milano titola a Milano ci sono 25 piste ciclabili promesse ma non realizzate. La protesta dei comitati per la mobilità sostenibile le aspettiamo da due anni. Una manifestazione in piazzale Lugano per denunciare ritardi, soprattutto per la ciclabile della Ghisolfa, lo sappiamo, le abbiamo seguiti anche in diretta più di una volta, la famosa ciclabile autodisegnata spesso e volentieri anche dai movimenti che hanno fatto capire che insomma bisogna intervenire. La questione è molto molto lenta, la questione è molto molto difficile. Ebbene sì, quindi il comitato non vediamo l'ora, che è anche il titolo effettivamente, prima che va se lo so, comitato andiamo piano, comitato bicicletta Milano, comitato ciclabili. No, non vediamo l'ora perché l'attesa è quella che sta facendo impazzire i milanesi. 25 piste ciclabili promesse ma non realizzate. Questa è appunto la notizia che andiamo a leggere da Milano, Repubblica Milano. Di contro, cioè di contro, sempre sullo stesso tema, anzi, Roberta Sculati, consigliera comunale, che ieri ha fatto, insieme a dei suoi colleghi, con la Commissione Mobilità Attiva e con Marco Mazzei, ha voluto fare un sopralluogo al velodromo Vigorelli. Velodromo Vigorelli che è velodromo solo ed esclusivamente nel nome, perché sappiamo benissimo che ormai la pista è inutilizzabile. Questo non lo scrive lo Sculati, a me piace perché cerca sempre il lato positivo delle cose e sono contento di questo, insomma. Anzi, ricorda che un luogo del genere, le foto interessanti mette anche una foto della famosa targa commemorativa del concerto dei Beatles, fatto appunto al velodromo Vigorelli il 10 aprile, no, scusate, sì, no, il 24 giugno, scusate, il 24 giugno del 65, targa messa invece il 10 di aprile. È più grossa la data di quando hanno messo la targa che del concerto, vabbè. Comunque, ricorda che bisognerebbe far tornare alle grandi gesta di una volta questo luogo, ora dedicato, c'è una piccola imprecisione ma nel senso la legge da passo, lo Sculati insieme anche ebbe, perché dice anche al football americano no, è solo per il football americano al momento e anzi ben venga, nel senso che è lo stadio del football americano a Milano, dove giocano i semen e dove giocano anche il femminile con le sirene, quindi insomma è bello anche per quello, infatti quando entrate vedete tutte le righe delle yard segnate sul campo. Giustamente lo Sculati dice, insomma, cerchiamo di far tornare il ciclismo uno sport importante per questa città, per esempio rilanciando da qui la partenza della Milano-Sarremo, una delle corse ciclistiche più importanti, ce lo auguriamo tutti, effettivamente quest'anno è partita da Pavia, quest'anno la Milano-Sarremo è partita da Pavia, quindi vedete voi come siamo messi e soprattutto rivogliamo il Giro d'Italia a Milano, rivogliamo il Giro d'Italia a Milano. Negramaro, ricominciamo tutto e è perfetta per introdurre il prossimo nostro argomento, perché parliamo di politica, parliamo del PD milanese che sabato ha iniziato a fare rivoluzione a palazzo, i palazzi tremano, così potrebbero titolare, in realtà la rivoluzione gentile, non so come dire, perché cosa è successo? Allora, sabato all'evento allo Scalo Farini con quasi 800 persone ha iniziato la campagna elettorale più o meno, ma il PD di Milano con il nuovo segretario cittadino, che ha voluto raccontare, Alessandro Capelli ha voluto raccontare un po' quale sarà il PD del futuro, ha detto superiamo il modello Milano e torniamo in sintonia con le persone. Madonna, quando mai l'hai detto? Alessandro, ma che è tenuto in mente dire una cosa del genere? Eh sì, basta. All'evento Scalo Farini circa 800 persone, leggo da Corriere della Sera a Milano. Il ciclo iniziato nell'inverno del 2010 è finito, così dice il segretario metropolitano del PD e dobbiamo assumerci la responsabilità di un nuovo inizio. Ricominciamo tutto, come dicono i Negramaro. Sta di fatto che insomma il PD di Milano chiude la stagione politica avviata con l'elezione di Giuliano Pisapia e lancia dallo Scalo Farini con, per te idee per unire, un nuovo inizio. Non è più tempo di celebrare il modello Milano, così ha detto Capelli, ma è tempo di portarci dietro quella credibilità, quella serietà, quelle reti diffuse e lavorare per aggiornare un nuovo progetto Milano. Mamma mia, ovviamente. Fino a ieri il sindaco Sala andava in giro a spandirare il modello Milano a tutti, ma questo ci dice così. Mamma mia, quando mai? E infatti si fa sentire subito la risposta di Sala, che secondo me non l'ha presa bene, ma come sempre con sua plomb riesce a rispondere in maniera proprio così diplomatica, con però un'avvertenza dice appunto, leggiamo da Repubblica Milano, Beppe Sala dice al PD, attenti a smontare il modello Milano, basta un anno di lavoro sbagliato e torniamo come eravamo vent'anni fa. Il sindaco replica al segretario Demo Alessandro Capelli che sabato ha parlato appunto di ciclo finito, riferendosi alla città amministrata negli ultimi anni. C'è un po' di smarcamento qui signori, il PD si smarca dal sindaco, c'è poco da fare, cioè è palese che c'è questa cosa, adesso ditemi quello che volete, facciamo i democristiani quanto volete, prendiamo i manuali di politica e facciamo quei cencelli come si dice in questo caso, ma qui c'è uno smarcamento, qui il PD si sta, non dico disconoscendo, ma insomma l'operato di questi sicuramente ultimi anni del sindaco Sala, in vista ricordiamo delle elezioni del 2027, adesso a giugno ci sono le europee, ma a 2027 ci saranno poi le amministrative. Oltretutto Capelli ha detto anche attenzione adesso non dobbiamo cominciare a pensare al candidato sindaco del 2027, ma dobbiamo cominciare a pensare a costruire una città che si riveda nei nostri valori e poi con le ovvie primarie, così no, è ovvio che sono nel PD, faccio le primarie, c'è un trend su TikTok delle ovvio, potrebbe essere quello, è ovvio che sono nel PD, faccio le primarie, comunque non è così ovvio perché abbiamo visto come in altri paesi, in altre città d'Italia poi alla fine le primarie non sono state fatte. Comunque c'è questo smarcamento, il sindaco non l'ha presa bene, nel senso che ha dato quella risposta, molto diplomatica, ma sicuramente non l'ha presa bene, soprattutto perché le parole che sono state usate sono proprio le sue, cioè quel famoso modello Milano, un modello Milano che il sindaco porta avanti e vuole esportare nel mondo, un modello Milano che il segretario Dem ha detto bisogna ripensare, un modello Milano che insomma, forse per il sindaco si porterebbe un po' ovunque, a nord, a sud, a ovest e a est. Gli 883 con nord, sud, ovest, est alle 7 e 53 minuti qui su Crystal Radio, good morning Milano, mattinata in nostra compagnia fino alle 9, nella seconda parte ovviamente di trasmissione arriveranno anche gli ospiti, oggi parliamo di Seveso, non della città di Seveso, del fiume, del torrente Seveso, vi ricordo anche di farvi un giro su milanonews.it nella sezione Le Storie c'è un bellissimo articolo di long journalism sul Seveso con mappe filmati, modalità interattive anche per capire meglio come sia possibile che un piccolo torrente che nasce quasi ai confini con la Svizzera poi diventi quella grande minaccia di cui tutti poi parlano qua giù in città, insomma andate a leggerlo oppure seguiteci dopo perché parleremo appunto di Seveso con i nostri ospiti qui in studio. Da Corriere della Sera Milano notizia ancora invece che ha a che fare con le scuole perché continuano le occupazioni delle scuole a Milano, appunto Corriere Milano titola scuole occupate a Milano, la protesta si allarga agli ITIS, anche gli studenti del Maxwell bloccano le lezioni. Sei le richieste di studenti dalla maggiore attenzione agli aspetti emotivi compreso lo stress da voti alla qualità della formazione e delle infrastrutture scolastiche. Allora io continuo a dire che se questi ragazzi al 9 di aprile si mettono lì a fare questa roba vuol dire che veramente il disagio è ormai a livelli altissimi. Vengono richiesti ovviamente dagli studenti delle sacrosante sono dei desiderata importantissimi quelli che hanno usato in questo momento. Magari sono difficili per noi da comprendere ma è importante che vi si ascolti. Lo so lo stress da voti ce l'abbiamo avuto tutti, quello che volete, ai miei tempi, benissimo, è vero ma i tempi sono cambiati. Se ai nostri tempi succedeva una cosa e lo stress riusciamo a gestire in una maniera oppure in realtà non lo gestivamo e lo nascondevamo, adesso non è più quel tempo e quindi questo stress e questo disagio va gestito. Questi ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, di ascoltare le loro proposte e poi non è detto che le loro proposte siano tutte valide. Si ascoltano e si trova la mediazione perché molto ovviamente nella nostra idea non c'è la verità, nella loro idea non c'è la verità. In mezzo sicuramente invece troveremo una grande e unica soluzione che può funzionare per questi studenti che appunto continuano da mesi ormai a fare queste occupazioni a staffetta come abbiamo detto appunto da un istituto all'altro. Noi ci fermiamo un attimo, giornale radio, piccola pausa e poi torniamo qui sempre in diretta a Good Morning Milano. Gli U2, U2 con One, U2 anche tu, ve lo ricordate che chiamano così perché sono su un volantino che misero nel loro liceo, c'era scritto se vuoi cantare anche tu U2 unisciti a noi e quindi U2, U2, vabbè così volevo dirvelo. Siamo arrivati alla seconda parte di trasmissione 8 e 10 di oggi martedì 9 aprile. Oggi parliamo, ve l'ho detto prima della pausa, vi ho detto che avremmo parlato di vasche, di Seveso, no non stiamo parlando stranamente della vasca di Bresso di cui ormai abbiamo parlato tantissime volte ma non è l'unica vasca qua di Bresso, ci sono tante altre tra cui ad esempio quella che dovrebbe nascere a Senago e ne parliamo qui con Giovanni Cortese. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora, noi effettivamente siamo sempre un po' troppo milanocentrici e quindi pensiamo sempre che ci sia solo la vasca di Bresso che poi non è a Bresso che poi è a Milano ma in realtà non è l'unica, ce ne sono altre lungo il corso del Seveso, anche diciamo non lungo il corso del Seveso perché quella di Senago in realtà viene fatta modificando questo corso, giusto? Cosa dovrebbe succedere a Senago? Ma intanto bisogna dire che le vasche sono allentate sul Seveso, Varedo, Paderno, un'unica vasca che ha raggruppato le due vasche previste, a Senago sono due vasche e poi a Bresso quella che è stata attivata recentemente. Poi ci sono anche le aree golenali che dovrebbero assorbire una parte abbastanza contenuta delle esontazioni del torrente, insomma. Quello che però fa un po' specie, sentendo parlare della vasca di Senago, è che quando mi sono arrivati i vostri comunicati ho detto ma che cosa c'è da Senago con il Seveso? Senago non è lungo il Seveso. Senago dista a quattro chilometri e mezzo dal punto di presa del canale scolmatore di nord-ovest, ossia l'acqua prima che arrivi a Senago deve fare quattro chilometri e mezzo di percorso. Tira su anche un po' dell'altra acqua ovviamente perché c'è, però Senago non c'entra niente. Oltretutto Senago ha già dato quando ha consentito la realizzazione del canale scolmatore che praticamente passa attraverso il paese. Il canale scolmatore che è quel canale che in realtà diciamo è il nonno delle vasche, cioè si era pensato di fare un canale che quando quello si alza, tac, si apre e butta un po' d'acqua dall'altra parte. Esatto. Non sono un idraulico ma credo che... No, no, è così, ma ne era previsto anche uno di nord-est, che poi non è stato fatto, reggente il comune, la Moratti, che ha preferito altre scelte insomma. Ecco, ha parlato di sindaco Moratti, quindi Milano, perché anche in queste operazioni in realtà il comune di Milano comunque è dentro, nel senso che l'idea delle vasche e della progettazione è in tutto in capo a Regione Lombardia, ma poi è Regione Lombardia con il comune di Milano. Eh, sono i due sovvenzionatori economici dell'intervento, Regione Lombardia con 10 milioni di euro, comune di Milano con 20 milioni di euro, che fanno 30, che sono già lievitati senza ancora aver finito le opere a 36 milioni 250 mila. Eh, insomma, niente male. Giacomo, e chi li mette questi milioni in più? Ma li trovano. Mi è piaciuto. Cosa volete che siano, 6 milioni in più? E' come quando mi mancano i 20 centesimi a me per il caffè. Poi magari se invece c'è da fare qualcosa di utile per i cittadini non tirano fuori i soldi. Effettivamente Giovanni, interessante anche questo. Allora Giovanni, io direi che adesso abbiamo capito un attimino dove stiamo collocati nel mondo, appunto, quindi a nord di Milano, in mezzo, no? Lì nella pianura, vicino a Padello Dugnano, Varedo, poi Cesate, lì vicino a Sedano, Bollate, quella zona lì. E ovviamente voi dite, no, questa vasca così non va bene. Perché lo scampiamo subito dopo un po' di musica. E quindi appena torniamo capiamo perché appunto il Comitato Novasche e Tutile del Territorio di Senago dice, no, così non va bene. Tra parentesi immagino già quali siano un po' di problematiche. Ma lo lascio dire a lei, caro il mio Giovanni. Andiamo con un po' di musica. Sto parlando dei Comacose con Post Concerto qui alle 8 e 14 minuti su Crystal Radio. Good morning, Milano. Post Concerto, i Comacose alle 8 e 17 minuti qui su Crystal Radio. Allora ci riportiamo a Senago, 20.000 abitanti in quella della città metropolitana di Milano, su a nord della nostra città, non proprio lungo il corso del Seveso, ma nonostante questo appunto abbiamo sentito interessata dalla costruzione di una vasca di laminazione per il Seveso. Vasca di laminazione che appunto viene contestata dal Comitato Novasche e Tutile del Territorio. Giovanni, quali sono appunto le principali motivazioni della vostra no a queste vasche? Ma originariamente era partito il discorso del non vedere la costruzione di vasche di questo tipo in un territorio che è corridoio ecologico di regione Lombardia ed è nel Parco delle Grohane. Ah, perché quel pezzo di territorio è inserito nel Parco delle Grohane. Il Parco delle Grohane, a tutti gli effetti, quindi è inedificabile per definizione. Ma il problema principale è dato dalla forte concentrazione nelle acque del Seveso rilevata da Arpa Milano, quindi siamo di fronte a un'istituzione ufficiale che rappresenta un pericolo enorme che è stato poi processato da un medico di basse, di chiara diciamo conoscenza sia per il lungo trascorsi eccetera e da una biologa molecolare che all'inizio fece anche ricerche al San Raffaele. Per quello che c'è dentro, cancerogeni, metalli pesanti, il solo pensiero di quello che potrà causare nel tempo fa caponare la pelle. Questo è il discorso che preoccupa i cittadini. Le acque luride sporche. Diciamo sporche, non diciamo solo sporche a livello estetico ma proprio anche appunto organolettico, cioè nel senso che ci sono, c'è dentro un po' di tutto perché ricordiamo che il Seveso si porta giù qualsiasi cosa lungo il suo corso. Tantissimi sono ritrovati anche degli scarichi abusivi nel Seveso, so che Arpa sta facendo un lavoro pazzesco nel monitoraggio e nella chiusura anche di questi scarichi e poi comunque tutti i tombinature delle varie città lungo il corso, Varedo ad esempio, che è vicino a voi, Paderno, insomma tutte queste città scarichano lì dentro. Neanche volontariamente, cioè proprio è la fisica, no? Ma certo, ma Arpa ha certificato le acque dal punto di vista biologico e dal punto di vista chimico e nelle pubblicazioni di Arpa sono entrambi scadenti. quindi non c'è da dubitare sulla situazione del problema. Il Seveso è un torrente, quindi raccoglie tutte quante le porcherie che man mano vengono verso Valle e che quindi poi convergono verso Milano e oltre, verso il Re dei Fossi in finale. C'è il Cesano Maderno e c'è il Serenza che va nel Seveso, più a Monte c'è il Terroche, una cloaca a cielo aperto che va nel Seveso. Poi ci sono tutti quanti gli scarichi industriali, bisogna pensare che sono stati censiti 1.505 scarichi nel Torrente Seveso. E questo non l'avete fatto voi? No, 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 sono certificati, sono alla Procura della Repubblica. E su 1.505, 1.400 sono abusivi. Ecco, non male. Insomma, capite che la paura dei cittadini di Senago incomincia a essere abbastanza capibile, comprensibile, diciamo anche da noi altri che siamo così distanti. L'altra cosa particolare di questa vasca è che, essendo appunto in una zona dove non si può edificare più di tanto, credo sia forse anche quella la motivazione, non è come la vasca che conosciamo che c'è a Bresso, tutta cementificata, è tutto diciamo in calcestruzzo e quindi poi, con tutto quello che comporta, la possibilità di pulirla. Questa sarà un po' diversa, giusto? Perché? Come sarebbe? Sì, è radicalmente diversa. Secondo il mio parere, c'è un errore di progettazione, nel senso che, sapendo quali sono le condizioni delle acque, la metropolitana milanese che ha progettato la vasca di Bresso si è preoccupata principalmente di dare la possibilità comunque di fare un lavaggio, cosa che è avvenuta dopo l'ultima... Parliamo di quella di Bresso, giusto? Di Bresso, esatto. Quella di Senago, invece, ha una superficie in terra, che vuol dire che tutto il materiale si deposita nella vasca ed è previsto che fino a 5 centimetri di spessore di residui non si fa nulla. Dopo i 5 centimetri non si portano via, perché voglio vedere come fanno a portarli via, ma li frantumano e li portano via quando ha raggiunto lo spessore di 30 centimetri. Siamo alla follia pura. La cosa interessante, Giovanni, è che tu non sei un ingegnere idraulico, ma diciamo che i lavori pubblici ne hai visti nella tua vita, no? Sono quasi 50 anni. Perché facevi questo di mestiere per le Ferrovie dello Stato, giusto? Io gestivo i lavori in tutta la Lombardia, edili, idraulici, riscaldamento, binari... Tutto quello che doveva fare Ferrovie dello Stato passavano dalle mani e dagli occhi di Giovanni Cortese. Diciamo che io ero una buona pedina, ecco. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi per questo in realtà tu hai queste critiche anche sul discorso un po' della progettazione, di come viene gestito la modalità del processo operativo che c'è in questo momento in atto. A proposito, a che punto siamo adesso? Cosa sta succedendo? Gli scavi ci sono, non ci sono, hanno già transennato. A che punto siamo? Facciamo capire chi ci segue la casa. I primi lavori sono stati consegnati nel 2020. È stata fatta una consegna parziale. I tempi previsti in contratto e comunicati all'Unione Europea, perché era una gara europea quella che è stata fatta, davano dei valori che sono poi esposti nel contratto tra le parti. Quelli che invece stanno utilizzando e comparendone i cartelloni sono tutt'altra cosa, non ci azzeccano proprio niente. Quindi in teoria, dopo l'ultima rilevazione che ho fatto, i lavori si sarebbero dovuti completare il 18 aprile del 2026. ultimamente sono passato, hanno calato quasi un anno i giorni. Cioè i termini utili, che sono una cosa importantissima nei contratti pubblici, sono una delle tre condizioni irrinunciabili dei contratti, sono diventati invece come le esontazioni. Salgono, scendono come cavolo vogliono. Come i bitcoin, diciamo, che stanno nascendo come la borsa. E ma, infatti, quando è che in teoria dovrebbe entrare in esercizio questa vasca? Ma... Facciamo così, secondo loro e secondo lei. Allora, secondo le ultime rilevazioni dovrebbe entrare in funzione l'impianto a fine 2025. Ok. Siccome la quantità di terra che è lì e non è stata portata via con un'operazione che è tutta particolare, secondo me non faranno in tempo a 2025. Adesso modificano i giorni per una questione così di apparenza, eccetera, ma non si gestiscono così i lavori pubblici. Eh, appunto, lo dice Giovanni, che appunto dagli anni Sessanta gestiva i lavori pubblici. Quindi, diciamo, lo dice con connessione... Cominciato nel Sessantadue. Nel Sessantadue, insomma, con connessione di causa, lo dice. Allora, facciamo una cosa. Noi adesso ci fermiamo ancora con un po' di musica. Andiamo anche in pausa con due consigli per gli acquisti veloci e poi torniamo qua ancora a parlare di Senago, della Vasca e appunto anche vorrei capire un po' poi in che posizione del paese viene messa che sicuramente sarà lontanissimo dall'abitazione, immagino, spero. No, assolutamente no. Appunto. C'è un grosso complesso che sarà un centinaio di metri. Ecco, ottimo. Saranno contenti allora quelli che abitano nel complesso. E poi c'è un rione. Ah, e poi c'è pure un rione vicino, bene. Allora, per tutto, Giovanni Cortesi del Comitato No Vasche e tutela del territorio di Senago ne parliamo ancora fra pochi minuti sempre qua in diretta. 331-78-535-55 non sono molto di WhatsApp. Se anche voi avete qualcosa da dire sul Seveso noi siamo qua ad ascoltarlo. Mi raccomando. Come sempre attenti a quello che succede sul territorio perché questo è Good Morning Milano. Questa è la sveglia dei milanesi. Questo è il vostro programma sempre qui in diretta su Cristian Radio tutte le mattine. 96.2 FM, Dub Plus, applicazione di iOS Android e anche il sito internet goodmorning.milano.it Jennifer Lopez on the floor 8 e 35 minuti martedì 9 aprile ancora qui con voi in nostra e vostra compagnia Good Morning Milano a parlare di Senago e del Seveso la vasca del Seveso di Senago che dicevamo essere messa a chilometri di distanza dall'agglomerato urbano, vero Giovanni? Oh, ce l'hanno. Sono riuscito a farlo sorridere, meno male. Quella più vicina era a 20 metri e gliel'hanno comprata a un prezzo strabiliante. Ok, almeno quello si è liberato. E gli altri c'è un agglomerato a 100 metri neanche, no? No, neanche. Neanche. Perché c'è anche un intero quartiere che è il quartiere Traversani sul mercato della Gigante che confinano con le vasche. E questo è uno dei motivi anche per cui insomma ci si fa sentire nel senso che nessuno dice niente se una vasca, come abbiamo sentito altre volte nel vento le esibili sono delle vasche messe quasi nel nulla in mezzo al niente e vabbè è un male a cui dobbiamo sottostare qui però veramente il rischio è che venga fatto tutto questo anzi il rischio è palese che venga fatto tutto questo a poche centinaia di metri appunto dalle case. con tutto quello che ne concerne quell'acqua lì, ricordiamolo è un'acqua che... È terribile basta guardare i rilievi ARPA e poi senza fare nessuna fatica perché ormai su internet sul dottor Google ci possiamo andare tutti quanti vedere quel rilevato di ARPA cosa può procurare tutti quanti lo possono fare e dopo di che si rendono conto di quello che c'è il problema è un altro è che perlomeno quelli che conosco io di Senago i cittadini Dante li avrebbe collocati nel limbo dagli ignavi cioè agli apulici a quella roba... Non si riescono a svegliare le coscienze della città come mai? un po' perché sono facogitati dalla classe politica che appoggia queste vasche e un po' perché vengono da una cultura contadina che è stata proiettata negli anni 60 nella cultura industriale perché sono state realizzate le aree industriali che ha creato una serie di scompensi e quindi gli obiettivi le situazioni sono un po' appannate ecco però quando verranno rilevati gli effetti che sono purtroppo a medio e lungo termine poi non potranno dire ve l'avevamo detto ecco noi speriamo che questi effetti siano mitigati il più possibile non è però così semplice nel senso che davvero cosa si può fare a questo punto? e a questo punto l'unica cosa è prima che entrino in funzione le vasche di Senago dove non possono essere lavate che le acque vengono disinguinate ok del resto un progetto fatto dal Politecnico di Milano stiamo parlando non da Giovanni il Politecnico di Milano prevedeva per il Seveso una serie di disinquinamenti per portare l'abbattimento degli inquinanti dai valori rilevati a valori accettabili questo progetto da regione Lombardia che ha perché l'ingegner Campanelli lo ha ammesso in una riunione che ha non l'hanno neanche preso in considerazione ok sicuramente pensavo anche di costi o cose del genere immagino costeva un po' più delle 36 milioni ci sono aspetti singolari va bene non le faccio domande scomode Giovanni perché ci tengo alla sua salute quindi non voglio che sia mali o che debba venderla a casa poi nel caso di ritorsioni o di dover spiegare le cose in maniera diversa comunque è stato di fatto che allora il comitato adesso che cosa chiede e come si muove questo comitato appunto Novasche tutela del territorio di Senato Noi abbiamo chiesto ben due volte in seduta di commissione a Bruxelles che vengano disinquinate le acque prima del loro ingresso nelle vasche di decantazione quindi non state dicendo niente chiudete le vasche sopra una bella colata di terra no va bene ce le facciamo ma esatto però fate che tra l'oltre è obbligatorio anche perché all'1-1 2027 se le acque del Seveso non saranno portate a livello accettabile scatta la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea 74 milioni all'anno una delle tante che paghiamo ogni anno ma per il Seveso 74 milioni per un torrente non sono male appunto quindi noi chiediamo questo cosa faremo perché non ci arrendiamo ovviamente anzi prima una domanda cosa avete fatto perché so che avete già fatto alcune azioni avete fatto un esposto alla Corte dei Conti giusto? noi abbiamo fatto il 15 gennaio 2020 abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica in quella sede è un esposto che diceva praticamente qui ci sono degli elementi portati da cartacei e da documenti controllate se le cose che diciamo sono vere e rivestono anche carattere da perseguire ancora non abbiamo avuto risposta abbiamo chiesto ben due volte tramite l'avvocato che ci segue di avere notizie e ci è stato risposto tutte e due le volte che stanno facendo gli accertamenti quindi vi hanno detto che l'hanno ricevuta almeno quella sì sì no 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 anche perché l'avvocato ha precisato in chiusura dell'esposto che di avere l'informazione qualora volessero chiuderla anche per fare obiezione sì sì chiaro è in itere questa richiesta vedremo appunto che cosa dirà la Corte dei Conti ancora un po' di musica ci fermiamo un attimino e poi torniamo per capire invece appunto i prossimi passi del comitato no vasche e tutela del territorio di Senago non prima però di aver ascoltato i Moneskin con Supermodel 8 e 44 minuti questo è un'immoneskin siamo ancora qui con Giovanni Cortese a parlare della vasca di Senago Giovanni tu fai parte appunto del comitato no vasche e tutela del territorio di Senago ma anche dell'associazione culturale Rinnoviamo Senago e del comitato Senago Sostenibile questo va a capire insomma comunque non è che siete da soli il comitato è ben composto no? no ci muoviamo in sintonia perché tra l'altro siamo gli unici che stanno portando avanti questo discorso anche se ci manca l'appoggio della cittadinanza perché come dicevo anche prima sono un po' abulici e un po' faccogitati dall'appartenenza politica regione Lombardia comune di Senago insomma che sono le stesse coalizioni infatti perché l'amministrazione cosa dice di tutto questo? l'amministrazione comunale di Senago? Purtroppo non siamo in sintonia ma l'amministrazione di Senago si è appaiata completamente sulle posizioni di Aipo che è il braccio armato di regione Lombardia la miseria perché Aipo è l'agenzia Po che quindi opera nelle quattro regioni che sono attraversate dal Po quindi sono una potenza l'agenzia interregionale per il fiume Po è l'Aipo ok che è quella che gestisce le acque poi in queste quattro regioni come diceva gestisce i lavori gestisce i lavori ok gli interventi l'eventuale progettazione utilizzando i professionisti eccetera quindi i prossimi passi quali saranno allora a questo punto? ma noi siamo sul chi vive ecco nel senso che stiamo controllando periodicamente l'andamento dei lavori che sono vergognosamente in ritardo ok dopo di che il passo è quello di pressare le istituzioni a tutti i livelli per le problematiche delle acque e della sicurezza dei cittadini ma anche della falda freatica che alimenta i pozzi di Senago e di bollate perché il gradiente della falda va verso bollate quindi il piano è inclinato verso bollate la terra la pianura è inclinata verso bollate per dirlo in maniera più semplice esatto noi amministrazioni comunali che comunque a questo punto cercheremo di sentire chiederemo appunto anche a loro cosa ne pensano di questa situazione così che magari appunto si possa avere anche giustamente la loro campana qui a Good Morning Milano se vogliamo sapere di più sul comitato Giovanni come possiamo fare ma vi lascio la mail mia in maniera tale che io possa sentire anche gli altri due diciamo istituzioni locali per eventuali azioni ed operazioni insomma chiaro chiaro poi li metteremo anche nei commenti alla diretta nell'articolo che trovate sul sito goodmorning.milano.it appunto tutti i contatti per contattare scusate il gioco di parole Giovanni Cortese il comitato Novaschi e tutela del territorio e comunque anche poi le altre associazioni che sono appunto impiegate e interessate da questa da questa situazione Giovanni grazie e allora so che c'è tanta documentazione che comunque voi avete che potete dare a chi ne ha bisogno o chi vuole sapere di più giusto? Noi intanto ringraziamo voi perché sono riusciti a mettere il velo su quelle che erano le possibilità di comunicazione ai cittadini tramite i giornali locali per il resto noi siamo disponibili a dare tutte le informazioni il pacchetto di documentazione è costituito da tre faldoni Ah però cominciano ad essere un bel po' di carta Dal 2014 siamo in in battaglia E allora davvero Giovanni grazie mille per essere con noi porto i saluti a Senago e a tutto il comitato e ripeto comunque adesso poi cercheremo di contattare anche l'amministrazione comunale per sapere anche da loro cosa ne pensano così abbiamo tutto il quadro completo vi ricordo che sul Seveso se volete sul sito di Milano All News nella sezione storie potete trovare un lungo articolo molto ben fatto dalla redazione di Milano All News che vi spiega un po' la storia che c'è dietro la questione Seveso e ci sono dentro anche poi le interviste interessanti all'assessore Granelli proprio sul discorso Vasque e quindi datevi un'occhiata così che mi fate anche voi un'idea e c'è anche una bella mappa interattiva sulla presenza dei fiumi che attraversano la città di Milano perché appunto non è solo il Seveso ma sono anche tanti altri il più famoso Lambro poi Cielo Lona e poi i vari fiumi tra cui Martesana Navidi scusate tra cui Martesana appunto che dovrebbero attraversare la città ma poi vengono tombinati e sappiamo anche il problema grosso della tombinatura di questi corsi d'acqua e tutto quello che ne concerne poi la cementificazione ricordiamo di una delle aree più cementificate d'Europa è questo che è il Nord Milano e quindi poi non stupiamoci per quello che succede Giovanni grazie mille ancora grazie a voi e buon lavoro buon lavoro a Giovanni Cortese buona continuazione anche a chi ci sta ascoltando perché adesso andiamo con i Bee Gees con You Should Be Dancing e poi torniamo qui per i saluti finali 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi martedì 9 aprile qui con Good Morning Milano ebbene sì un'altra mattinata in vostra compagnia in nostra compagnia io sono sempre molto contento di tutto quello che condividete con noi perché è questo che rende particolare e bello il nostro programma il morning show che sveglia i milanesi dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa ebbene sì la musica raccontata da Ambrogio Curti oggi mi sa così e che ci sarà un po' di patti bravo perché oggi è il 9 aprile ed è il suo compleanno quindi secondo me spoiler attenzione spoiler per Senti Questa noi si torna sempre qui comunque domani sempre raccontarvi un po' quello che succede a Milano non solo Milano avete visto oggi eravamo anche a Senago quindi la grande città metropolitana di Milano quell'entità un po' sconosciuta di più ma che poi è fondamentale perché ragazzi Milano non è che si ferma al confine eh no no va ben oltre grazie ancora per essere stati con noi questa mattina alle 8.56 vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio con una nuova scoppiettante e piena di interessanti ospiti di Good Morning Milano ciao 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 ciao